Bene, allora facciamo un intro per piacere Adesso tu ci hai mai visto registrare un video? No, per fortuna Aspetta, aspetta, dobbiamo introdurre prima il canale No, ma lo stesso Allora, siamo diventati youtuber professionisti Abbiamo microfoni e siamo dotati di camera Esatto, salutate, introduciti Ciao Bello Sono ancora l'assistente numero uno L'assistente numero uno, vi ricordate di lei? Bene Potete seguirla qui Vedete, questa Mettete mi piace la foto in cui ci sono io, le altre no, grazie L'altro insultato L'altro insultato Oggi ci troviamo qui per fare una sfida Una challenge Avete presente un cameriere ubriaco? Non so come spiegarlo La sfida? La prima, ci saranno tre sfida Ascolta, non sai parlare Ok, vero Come dici? Dizzy Dizzy? Ma cosa vuol dire? Dizzy Dizzy come lo traduci in italiano Dizzy Dizzy Sai cosa vuol dire? Non mi viene la traduzione In cosa sei laureata, scusa? In cosa sei laureata? Convingue Vedi che non è facile Non è facile Detto in parole povere Avete presente la sensazione di quando vi girate in tondo E vi gira la testa E non capite nulla? E tipo se correte, cadete e vi spaccate? Ecco, noi faremo questo Solamente che aggiungeremo una sfida Quello che faremo noi è aggiungere questo qui Questo è un vassoio di alta qualità Il nostro obiettivo è girare intorno Fai un esempio per favore, Federico No, 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 no No, ma io non riesco con le ciabatte Ma ti riscalzi? Ti riscalzi, allora, esatto Brava assistente, mi piace Grazie Allora, gireremo così per quanto? Quante volte? Una ventina Venti volte, gireremo intorno così Poi io avrò questo in mano Glielo passerò Lui lo prenderà in questa maniera E dovrà cercare di riporlo Su questo tavolo di avorio Questa è la sfida Chi comincia? Te o io? Facciamo sasso, carta, forbice Che canzoncina usi tu? Io canto Tu cani Assistente, metti Ligabue su Spotify Certo Ok Sasso, carta, forbice Cos'è? Sasso, carta, forbice Ma nei fatti due non vale? Perché ho il doppio della possibilità di vincere così capisci Bene, parti te, Davide Era pugno Parti te Ma perché era pugno? Perché è imbrogliato? No Cattiva l'assistente Anche giudice Anche giudice fa Ma l'onda mia Vince chi riesce a riporre Più acqua Più acqua Vince chi riesce a far cadere Meno acqua Che è la stessa cosa che ho detto io Però il contrario E per la dieta meglio Ma quante robe sa questa Pazzesco Ma è difficilissimo Sì È impossibile È una challenge Non è una challenge Non riesco più Non mollare Ma chi c'è? Anche un coach Che c***o Venti Prendi, prendi Veloce, veloce Veloce Hai ucciso il cameraman Cosa? Stai No, è impossibile No, fidaci Questa è una c***a di video Fai schifo Fai schifo Fai schifo Mi hai bagnato e basta Era da portare sul tavolo Non su di me È difficilissimo Non pensavo fosse No, 20 No, 20 lo fai almeno una volta anche te Dopo abbassiamo 10 Tanto dobbiamo fare due volte a testa È in discesa 14 Non ce la fai 20 Vai 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 Ti sei avvicinato molto di più Tu non ti devi fare male C***o Come va? È facile Prossima volta Sull'asfalto Adesso ci riesce anche un macaco Sto giro c'è la faccia Bravo Sì ma hai barato Come ho barato? Avevi gli occhi chiusi No Avevi gli occhi chiusi Non è vero Ti ho visto Tu stai barando in questo momento Quanto? Scusa eh Sbaglia sono tre bicchieri questi Comunque è assurdo Comunque dovevi correre No L'obiettivo era scinamento No era correre Sì vabbè io ho corso più che potevo Cercando di stare in piedi Secondo te è valido? Sì Eh l'abito di sì sì Vabbè allora faccio anche io dopo come te Fa bene Fai come me ok? C***o Allora ti dico La seconda volta è molto più facile Sì 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 Credi sia stupido Non noti che c'è molta meno acqua in quei bicchieri Ma credi che sia così Uno stolto Vai 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 Stapa 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 Ok allora hai vinto te Sei andato in culantia Ma l'importante è che arrivi alla sola Io ho questo A che parte stai? 4 4 Sì ma sei andato qui Sei andato qui Appunto ho fatto più strada Ti sei fermato Hai pensato Uuuu E poi ho messo qua Appunto ho fatto più strada Mi sono fermato e mi sono rigirato Vedremo la sfida dopo Brucia? Brucia cosa? Sono sconfittata Eh quanto il tuo culo Mamma mia Che schifo che fai Oh lo stipendio Non arriva questo mese Come farò? Benvenuti alla seconda sfida Innanzitutto parte Fredri Perché ha vinto prima Visto che fa tanto il figo Parte lui Prima bisognerà fare 20 giri Attorno a Codesto Palla Una palla sarà posizionata In questo luogo Bisognerà calciare la palla E farla entrare All'interno Di questo spazio Una volta fatto questo L'avversario Nonché nemico Sarà con quest'altra palla da basket in mano Io passerò la palla Il tuo obiettivo è fare canestro Lì dentro Tutto questo da Esatto Definizione scientifica Prego Sto per vomitare Venti Tira Oh cazzo Prendi la palla Miseramente fallito Bello Bello Complimenti Da notare La palla La palla è venuta da me La palla è lì Hai fatto schifo Allora A telecamere spente Può testimoniare Può testimoniare La cameraman assistente Giudice Dove Frederick cosa ha detto Riguardo a quella porta là Ah che è facile Ha detto Ma dai è troppo facile Anzi Anche ridotto la porta Esatto Tutto quanto Complimenti Complimenti Era molto facile vero Forse ho sbagliato i calcoli Ora tocca a me Cominciamo Aspetta aspetta Anche a te sta sulle palle Quando dice sempre salve Sì Davvero Smettila Ti giuro io lo odio Quando fa salve Vero Lo odio un sacco Lo fai con tutti Tutti i tuoi amici Lo vedi salve Sì è vero Sembri Vabbè Ma cos'è che è diventato Insultiamo David Tutti quanti insieme Cos'è sta roba Sembra Winnie the Pooh No Pippo Esatto Proprio Pippo Ma la smettiamo E tu fai schifo E tu pure Questo è bullismo Adesso non parlo neanche Con quella videocamera Parlo con questa Perché questo è bullismo Signori Vedete Vedete Bulli Ah ho capito cosa hai fatto Hai colpito l'orecchio Dove si trova L'udito Non l'udito Ah è l'equilibrio Il liquido dell'equilibrio Il liquido dell'equilibrio Proprio quello Pensavi che io fossi così uno stolto Ti ha colpito Lo so E 20 Vai calcio la palla Sì vabbè Fai un po' più di pausa Ha fatto centro Sì vabbè Fai un po' più di pausa Bravo Ha detto bravo Era valido Secondo me sì Mi dispiace Come ti dispiace Cosa vuol dire ti dispiace Che non ti favo per te Scusa eh Io ti pago le bollette Dai io c'ho un secondo tentativo Cos'è sto schifo Ma cos'è Ma basta Ma scusami eh Cioè dai Sei vergognoso Sono stanco Fai cagare Non mi prego Ma mi vedi Oh Basta mi arrendo Brava cameraman Mi riprendi morti Conosci Logan Paul Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Lasciate un like Lasciate un follow a lei E un follow a noi Per favore Ma alla fine Siamo uno a uno Fai un altro Ciao 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 Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace E ci vediamo nel prossimo video Ma perché la gente Quando fa ste robe Tipo fa la voce Bene Se vi è piaciuto Non è che fa così Lasciate un mi piace Ciao Vabbè E ci vediamo nel prossimo video Oh Oh